E' stato condannato a 5 anni di reclusione per sequestro di persone e violenza privata. Un dentista romano che nell'agosto del 2020, assieme alla sua compagna, con la quale stando alle indagini, aveva un rapporto padrone-schiava basato su pratiche erotiche estreme, Sado Maso tenne per oltre due ore chiuso in un appartamento a Milano un uomo che aveva avuto una breve relazione con lei. Secondo le indagini della squadra mobile di Milano, coordinate dal PM Rosaria Stagnaro, la vittima del sequestro venne costretta sotto la minaccia di una pistola ad affermare in un video girato con un telefonino una cosa non vera, ossia che aveva commesso abusi sulla compagna del dentista. Tutto ciò stando affilmati acquisiti sui telefoni della coppia in una sorta di rito di purificazione nell'ambito di quel rapporto padrone-schiava. La donna per questa vicenda aveva già patteggiato in passato due anni, mentre ora la giudice Nicoletta Narcheggiani dell'ottava penale ha condannato il dentista a 5 anni.